Alessandro, come sta andando il mercato? Ma per quanto ci riguarda, noi stiamo andando decisamente bene, anche perché abbiamo marchi dedicati non solo all'i-fi, ai-end classico, ma anche prodotti dedicati al mercato del lusso. Per cui McIntosh, Sonsfaber, Acufase in primis, vengono veicolati e commercializzati anche nel settore del lusso. Per cui da questo punto di vista noi stiamo aumentando i fatturati, per cui siamo abbastanza soddisfatti. Il discorso della distribuzione avviene tramite rivenditori super specializzati. I prodotti più commerciali vengono proposti anche tramite il mercato online, per cui tramite anche rivenditori online parlo per esempio di Torrens, Clipsch, Furutec, eccetera. Ci stiamo muovendo anche facendo degli eventi e proponendo prodotti nuovi anche attraverso eventi presso i nostri rivenditori autorizzati, quelli più importanti, cercando anche di lanciare i nuovi modelli presso i rivenditori e poi partecipando anche a questo tipo di manifestazioni, per esempio il Milano High End, che in questo momento penso sia la fiera più importante da un punto di vista audio, i-fi, i-end, che ci sia oggi in Italia. Dopo ovviamente in Europa c'è Monaco, ma è una cosa completamente diversa, dedicata molto anche al produttore e non solo al distributore e al pubblico. Si rincorrono ormai da anni voci sulla riorganizzazione del top audio, ricordate vari rivenditori, distributori? In questo momento, per quello che so io, non c'è ancora un'idea precisa per poter riproporre il top audio. Personalmente penso che sia stata una fase della storia del mercato italiano che ricordo anche in maniera molto positiva, perché io faccio questo mestiere dal 1995 per cui ne ho vissuti diversi di top audio, però penso che sia ormai un discorso passato e bisognerebbe fare uno step ulteriore, magari promuovere e proporre i nostri prodotti in maniera alternativa e diversa rispetto al classico top audio, anche a questa fiera qui che va bene per quanto riguarda la i-end, ma ripeto, per alcuni prodotti MP Electronic ci sono altri canali e altre proposte che vengono fatte da noi per dare visibilità al marchio. L'OMT è all'interno di una fiera come questa? All'interno di una fiera come questa non avrebbe senso. Ciò non toglie il fatto che in Italia, probabilmente in maniera marginale rispetto ad altri paesi nord-europei o americani, il mercato home theater è molto più limitato, diciamo, è molto più di nicchia. Nonostante ciò noi però continuiamo a proporre e a vendere impianti home theater di fascia alta, mentre in passato venivano fatti prodotti medi, oggi proponiamo, vendiamo prodotti home theater, home cinema, McIntosh, con pre-audio video finali multicanali di fascia alta, per cui un mercato molto di nicchia, ma direi ancora presente. Grazie a voi, grazie a te Ligio.